Tu stai qua a festeggiare? No, io sto qua per vedere quello che accade, le pressioni che ci possono essere da parte dei poteri forti nei confronti del PD per fare un'alleanza col monumento. Tutte queste cose qua in Piazza Leone stasera, no? No, stasera vediamo un po' quello che dice Luigi Di Maglio. Ha votato Luigi Di Maglio? Certo. Hai sempre votato i Cinque Stelle? No, io sono comunista, quindi... O ridici per favore? Sono comunista. Sei comunista? Sono fiero di essere comunista. E hai votato? Stavolto votato per i Cinque Stelle. E te Di Maglio lo conosci? Sì. Lo conosco perché è stato l'unico che ha preso le istanze dei lavoratori presentando una proposta di legge scritta dai lavoratori per una commissione d'inchiesta parlamentare sulla Fiat. Io sono un operario Fiat. Tu sei operario Fiat? Sì. E com'è la situazione adesso di un operario Fiat a Comigliano? Non c'è un piano industriale, non c'è assolutamente nulla, ci sono oltre 2000 esuberi. Le organizzazioni sindacali ritengono che sia tutto ok, ma in realtà non c'è proprio niente. Te che stai? Sono solidarietà e sono uno degli esodati di Nola. Nola è tipo il posto speciale dove vanno quelli nervosi. Quella è la cattiva. Mi auguro che non sia il Zviras italiano. Non sia, scusa? Il Zviras italiano. Zipras era, adesso io pure ho capito tutto dopo, comunque non sia il Zipras italiano. Un'immagine che vuol dire quello che parte rivoluzionario e poi deve fare quello che dice la Troika. Ricordiamo che Zipras ebbe in occasione del referendum, ricordi, pochi, sì o no, per la lineatura verso l'Europa, ebbe il sostegno fisico dei 5 stelle di Maio stessa da te nel giorno del voto. Ma come no, abbiamo fatto lo speciale maratone. Cioè, stavamo insieme, ti ricordi, e te, mentre quelli facevano la scatola, guardia, te li ricordi? È vero. Pure in collegamento con Ventana, che ti trattava male, dicevo no, questo ragazzo si farà, arriverà il momento della riscossa, io e te, adatai. Mi ricordo benissimo, e c'era Di Maio, c'era Di Maio e c'erano altri, adesso non mi ricordo, ma c'era Di Maio. Battista, c'era Grillo. C'era Grillo. Sì, sì, e comunque c'erano tutti. C'erano tutti. Speriamo che... La democrazia diretta, il referendum... Che non sia il Zipras italiano, andiamo avanti. Senti, ma te da comunista, che mi dici se sono comunista così, Di Maio, ti sembra uno di sinistra, uno di destra o non te ne frega niente? Di Maio, culturalmente, è una persona di destra. Culturalmente è una persona di destra. Sì, però le posizioni politiche che esprime il Movimento 5 Stelle sono molto più di sinistra di di tutta la sinistra che c'è oggi in Italia, perché non è rimasto con noi. E adesso come finirà sta tarantella dell'alleanza al governo? Che dovrebbe fare Di Maio? Io spero, sinceramente, da comunista, di può sembrare strano, spero che ci sia un'alleanza tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Ammazza... Se tu poni come obiettivo quello là di distruggere il vero fascismo, che è la Troica, l'unica possibilità è quella là. Ammetterei che è complicata. Non è complicata, è semplice. È originata, ecco, se vuoi dire. No, no, basta. Vabbè, tu mi dici, io sono comunista, spero di far guardare una carica, io un po' mi inquieto, posso dire. Se tu vedi chi è il vero fascismo? Sì, 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 no, ma... Chi è il vero fascismo, secondo te? I fascisti. No, quello là monetario. Quello là monetario, vabbè, vabbè, la storia è la storia. Con l'oro che impongono determinate ricette al popolo.